prima di proporre il video sui nodi e i modi di risonanza di un ambiente dove inserito un impianto con un video che mi è stato veramente fortemente richiesto ne sono contento indice di un pubblico molto appassionato devo finire un compito che ho iniziato cioè abbiamo parlato del woofer il titolo del video era come non rompere un woofer adesso inevitabilmente devo parlare del twitter cioè la parte medio alta di una cassa video che potrei intitolare ancora una volta come non rompere un twitter in realtà se hai molta fretta e vuoi subito la ricetta magica tela do subito abbassa il volume non far fischiare al microfono e vedrà che il twitter non si rompe salutiamo quelli che hanno fretta salutiamo il professor come dicono milano o professore come dicono napoli cioè quelli che sanno già tutto perché mi rivolgo invece ai curiosi dell'audio come li chiamo io che vogliono sapere qualche cosa in più sul twitter come fatto qualche curiosità qualche spiegazione sulle parole che girano intorno al twitter twitter è una parola inglese come woofer sono delle onomatope cioè la parola richiama il suono del dell'effetto stesso tweet sta per cinque attiva infatti il twitter è fatto per la parte alta dello spettro woofer inglese richiama sia la baiare del cani sia anche il woof sia anche il movimento di una grossa massa d'aria che viene in effetti spostata alla woofer che guarda caso è grosso pesante pesante quindi il twitter all'interno di un diffusore è il componente dedicato alla riproduzione delle frequenze alte e altissime vediamo quindi come è fatto un twitter eccolo qui questo è il classico twitter di ad alta fedeltà un modello molto economico in tela trattata poi vedremo che ci sono altri materiali dietro c'è il magnete e passiamo invece a vedere un driver un magnete quindi un motore di un twitter professionale come vedete ben diverso da questo questa parte qua è il magnete equivalente a quello che vedete qua dietro come fatto un twitter beh è fatto come tutti gli altri trasduttori nel mondo della riproduzione sonora i traduttori l'abbiamo già visto sono quei componenti elettromeccanici che convertono l'energia elettrica i watt i volt quello che volete in energia meccanica cioè e onde sonore non è semplice commutare un tipo di energia in un'altra non è affatto semplice infatti sono i componenti più critici di un impianto audio attenzione fanno anche il lavoro inverso cioè quando parliamo di microfoni o di puntine ad esempio fanno lavoro inverso cioè trasducono un energia meccanica il suono che sto sentendo in un'energia elettrica quella piccolissima corrente che dal microfono della puntina deve essere poi amplificata e registrato riprodotta i trasduttori dinamici sono tutti i fatti nella stessa maniera quello che serve è un magnete ferrite in alnico una volta in neodimio ultimamente all'interno del quale è ricavato una feritoia cioè un traferro dentro il quale si inserisce una bobina quella che vedete in questo caso molto molto piccola in filo di rame a volta in questa questa spira appunto e per effetto della legge che noiosissima una bobina immersa in un campo magnetico se percorsa da corrente da origine a movimento e viceversa quindi woofer twitter e abbiamo detto anche microfoni cuffie puntine sia magnete mobile che bobina mobile citofoni sono tutti fatti alla stessa maniera o meglio tutti quei trasduttori che si chiamano dinamici come in questo caso perché abbiamo anche gli elettrostatici pizzo elettrici che magari tra poco affronteremo e allora se un magnete bene o male sappiamo come è fatto può essere più o meno grande in materiale più o meno pregiati vediamo invece come viene fatta la bobina cioè il secondo componente del twitter che equivale alla membrana ben più grossa nel caso in cui parlavamo del woofer ecco qui una membrana voice coil come la chiamano in inglese in questo caso in un metallo probabilmente alluminio ma può essere titanio boro può essere qualsiasi materiale che sia il più leggero il più rigido possibile dietro il quale è avvolta la famosa volta è incollata la famosa bobina facciamo una cosa lo vediamo meglio qua in questo bellissimo poi scolta due pollici ecco vedete che in questo caso qui abbiamo volta la nostra bobina di rame fatta di filo sottilissimo smaltato quindi non si tocca una bobina con l'altra viene percorsa questa bobina dai watt che gli arrivano la crossover che riceve a sua volta dal amplificatore e immersa nel suo magnete produce la vibrazione che ci interessa parliamo di questa vibrazione si tratta di quel movimento che mette in perturbazione l'aria quindi crea delle onde di pressione che arrivano al nostro vecchio che si chiama musica questi onde di pressione abbiamo detto che possono essere lente molto lunghe i bassi possono essere invece velocissime nella loro frequenza ogni secondo e sono appunto gli alti medio alti voi capite perché per creare delle onde di pressione positiva negativa lunghe profonde ricche energia se serve una superficie molto grossa ecco perché buffer hanno diametri importanti e membrane pesanti molto rigide mentre per fare gli alti servono proprio il contrario cioè membrane non per forza grosse ma devono essere estremamente leggere perché si devono muovere c in certi casi fino a 20 mila volte al secondo 20 mila volte al secondo i famosi 20 mila hertz ed essere estremamente rigide perché se si deformassero ogni volta che si muovono non avremo più la nostra onda di pressione velocissima ma avremmo una cacofonia strana e qui ci sono le varie interpretazioni dei materiali con quali vengono costruiti i twitter ne vediamo uno in seta trattata ancora quelli classici d'alta fedeltà quindi seta sicuramente leggerissima trattata con un compound che la rende sufficientemente rigida qui invece abbiamo una serie di voi scoli di membrane in resina fenolica captain certe volte quindi un che questo caso un specie di materiale composto che ha tra le sue caratteristiche la estrema rigidità è una buona leggerezza il bello che costa poco dietro tutti questi ambrani come abbiamo già detto vedete la famosa bobina anche in questo caso torniamo invece come l'abbiamo come abbiamo già visto prima ad una bellissima esecuzione di un voice coil in penso alluminio non ne sono sicuro pronta ad essere montata infilata nel suo magnete non è questo ovviamente questa è una spugna di protezione vediamo un'altra foggia in pratica ancora una volta il voice coil in metallo ma già montata sul retro del magnete in modo da semplificare le operazioni di montaggio è una gbl beh ma torniamo al titolo originale dove come si rompe un twitter come nel twitter i motivi per cui una membrana un twitter si brucia sono di due ordini motivi abbiamo già letti nel caso del buffer sono i problemi meccanici e i problemi elettrici i problemi meccanici sono quelli ad esempio per cui la bobina si stacca si scolla dal dal supporto alla cupola oppure si staccano si risalgono i due piccoli fili di rame ecco quindi vediamo che che pensano fuori si staccano o si risalgono dicevamo dai cavi che realtà li portano al crossover ma in realtà i problemi meccanici nei twitter sono estremamente meno frequenti che nel woofer che dove invece l'ampia escursione della membrana del woofer sottopone tutto il meccanismo a delle sollecitazioni meccaniche decisamente forti qui le sollecitazioni meccaniche ci sono soprattutto se il taglio del crossover è fatto male adesso vediamo perché ma la maggior parte dei problemi sono di ordine elettrico questa piccola bobina è un avvolgimento di un filo elettrico estremamente sottile che è estremamente facile da bruciare quindi se noi mandiamo troppi watt o per troppo tempo all'interno di questa bobina fatta di un filo rivestito di smalto bruciamo lo smalto la bobina va in cortocircuito e sentiremo un grande puzzo di bruciata e non sentiremo più le alte frequenze che tanto ci piacciono quindi il principale motivo per cui un twitter si brucia e perché gli diamo troppo a potenza per troppo tempo e impediamo alla bobina di raffreddarsi convenientemente si di raffreddarsi perché se il woofer col suo movimento crea per sé stesso una corrente d'aria che loro fredda avete visto che dietro i magneti di woofer spesso c'è proprio un buco con una retina per permettere il passaggio d'aria che tanto più il woofer si muove tanto più si riesce ad affreddare da solo nel caso del twitter che si muove in maniera estremamente veloce e in maniera estremamente minuta questo raffreddamento non c'è non ci riesce ad essere grazie all'aria ed ecco che si brucia più facilmente ed ecco perché avrete forse sentito parlare di twitter al ferro fluido il ferro fluido qui ne vedete un un flaconcino è uno strano liquido una via di mezzo tra un liquido un solido in realtà un liquido con all'interno un componente di minerale di ferro che tra le sue caratteristiche a quella di poter essere attraversato dai campi magnetici cosa succede si mette questo pseudo liquido all'interno del traferro dove è immersa la bobina e in questo caso il ferro fluido come tutti i liquidi se da una parte lascia passare il campo magnetico riesce anche a dissipare molto più facilmente il calore sulla bobina per passarlo invece al magnete insomma i twitter al ferro fluido contengono questo liquido costosissimo e molto particolare vedete qualche immagine degli strani comportamento del ferro fluido ferro fluido appunto che serve per aiutare a raffreddare la bobina l'altro motivo di rottura abbiamo detto che era quello meccanico la maggior parte delle volte è dovuta un difetto del del twitter si si rompe oppure potrebbe essere dovuto al fatto che abbiamo chiesto al nostro povero e driverino di muoversi troppo lui non è fatto per muoversi tanto cioè se il taglio del crossover che il progettista gli ha dato è molto basso cioè si è costretto a fare delle frequenze molto basse nel nostro caso sottimile hertz sono già basse non sono i 20 hertz di un woofer oppure se il nostro crossover non funziona bene perché è danneggiato perché gli abbiamo dato una scaldata ecco che al twitter arriveranno delle frequenze molto basse lui sarà costretto a muoversi più di quello che potrebbe fare e andrà a finire che si spaccherà la sospensione si staccherà la bobina si fruggerà qualche altra cosa ma questi sono i problemi che hanno tutti i trasduttori dinamici come abbiamo visto ho accennato prima a altre famiglie di trasduttori ad esempio i twitter possono essere anche pizzo elettrici o a nastro pizzo elettrici sono quei twitter che tutti abbiamo visto li vedete qua una volta se ne faceva un uso smodato costavano pochissimo era veramente difficile rompersi e perché pizzo elettrici perché sfruttano una proprietà dei cristalli di solito di quarzo quindi un meccanismo di lavoro diverso da quello che abbiamo visto che riguarda bobine tra ferri magneti eccetera cristalli di quarzo che hanno una relazione quindi tra la pressione a cui sono sottoposti e l'energia elettrica che producono e viceversa insomma avete presente quegli accenditori del gas che premendo le producono una scintilla belli dentro c'è un quarzo pizzo elettrico e twitter lavorano non certo in quella maniera ma al contrario insomma ne viene fuori un twitter che non è un granché hanno il vantaggio di essere molto robusti perché più la frequenza di lavoro si abbassa più la loro impedenza si alza quindi si auto proteggono da soli sono molto efficienti ma le altre frequenze che producono non sono per niente gradevole sono molto sabbiose non ci piacciono tutt'altro suono invece hanno i twitter a nastro anche in questo caso la tecnologia e i principi di funzionamento non sono di questo tipo ma sfruttano appunto dei nastri appunto di metallo pregiatissimo anche oro pieghettati che ancora una volta se percorsi dal campo elettrico si muovono produrcono dalle onde insomma non è il caso di farne un corso possiamo per il momento dire che suonano molto bene perché sono ancora più veloci di questi ma sono contemporaneamente più delicati quindi si trovano spesso nelle casse d'alta fedeltà quando il costruttore in grado di gestirne l'alta efficienza e il comportamento esuberante molto meno in nell'audio professionale cos'altro possiamo dire a proposito di twitter beh posso farvi vedere questo twitter in tela trattata che come vedete è schiacciato come fare a ripararlo nel caso che vostro nipote ci ha ficcato il dito beh sicuramente non potete andare dietro e fare come sto facendo io che lo ricaccio di fuori però potreste ad esempio provare con un pezzettino di scotch di tela adesiva applicarlo sulla parte rientrata delicatamente e poi tirando l'esterno scoprirete che molto probabilmente la tela tende ad uscire per riprendere la sua forma originale mettete a posto lo scotch non picchiate il vostro nipote che vi ha rovinato il twitter anzi fate gli auguri che sono gli stessi auguri che vi faccio io che spero di rivedervi sul nostro canale youtube quello che state guardando dove trattiamo audio professionale e non oppure sul nostro sito che è www.ilmicrofono.it che si occupa di impianti audio per videoconferenze per locali pubblici per intrattenimento e per decine di altre applicazioni che potrete venire a vedere e a scoprire visitando il sito a presto